Individuato nel carcere di Taranto un pericoloso focolaio da covid-19 a comunicarlo è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria che specifica come 34 detenuti al momento siano risultati positivi al virus. Si attendono ora i risultati dei tamponi eseguiti su altri 200 detenuti cui seguirà una mappatura di tutta la popolazione carceraria per un totale di circa 670 unità. Non risulterebbero contagiati tra il personale di polizia penitenziaria ma il condizionale d'obbligo poiché si legge nel comunicato non si è provveduto a tamponare tutti i poliziotti in servizio. Emergenza covid che non fa altro che aggiungersi al problema sovraffollamento per quella che il SAP definisce una situazione esplosiva. Com'è possibile riempire un carcere che non può ospitare più di 300 detenuti portandolo a più del doppio si chiede il sindacato rivolgendosi all'amministrazione penitenziaria perché a fronte di questa irresponsabile operazione sono state inviate a Taranto poche unità di poliziotti come mai la rete dei controlli sanitari all'interno del carcere sia improvvisamente rotta. Sono solo alcune delle domande avanzate dal segretario regionale del SAP che poi conclude invitando la magistratura del capologo Ionico ad aprire un fascicolo per verificare la correttezza di tutti i provvedimenti adottati dai vari enti coinvolti. Al fine si legge nella nota di ricercarne le effettive responsabilità in assenza di risposte concrete conclude Pilagatti il sindacato attuera forme di protesta.